Ridurre le spese militari e urgenza del disarmo. Un appello a tutti i capi di Stato in questa direzione è stato lanciato da 50 premi Nobel in tutto il mondo. Non una utopia ma una necessità, commenta Tonio Dell'Olio, presidente dell'Approci Vitate Cristiana di Assisi. Il servizio di Marilena Pastore. La spesa militare mondiale dal 2000 ad oggi è raddoppiata e si sta avvicinando a 2.000 miliardi di dollari all'anno. Uno spreco enorme di risorse a favore di strumenti di morte. Per questo l'iniziativa dei premi Nobel non può passare inosservata. Tonio Dell'Olio, presidente dell'Approci Vitate Cristiana di Assisi e della Commissione Spirito di Assisi, plaudi ai 50 Nobel di fisica, chimica e medicina e ai presidenti di accademie e della scienza nazionali che hanno indirizzato un appello ai capi di Stato di tutto il mondo per chiedere semplicemente di negoziare un accordo globale per una riduzione bilanciata delle spese militari del 2% all'anno per 5 anni. Chiedono che la metà dei 1.000 miliardi che si libererebbero entro il 2030 siano destinate a un fondo globale per far fronte alle pandemie, ai cambiamenti climatici e alla povertà estrema. L'altra metà resterebbe a disposizione dei singoli governi. Non si tratta dei soliti pacifissi né delle utopie cristiane di un papa argentino, dice Tonio Dell'Olio, ma di uomini di scienza che comprendono l'assurdità abnorme della spesa in armi e la conseguente urgenza del disarmo. Ora quello stesso appello è aperto all'adesione di tutte le cittadine e i cittadini del mondo e vale la pena firmarlo. Anche se nell'appello non compare, mi piacerebbe che ciascuno degli scienziati si impegnasse pubblicamente con un giuramento solenne a non accettare mai più di vendere la propria intelligenza e il talento nella ricerca di morte, rinunciando a qualunque l'autocompenso da qualunque governo, conclude Dell'Olio. Solo qualche dato per l'Italia. Superato il muro dei 25 miliardi nel budget per la difesa con un aumento del 3,4% rispetto al 2021 e un balzo di quasi il 20% in tre anni. Un miliardo in più per l'acquisto di nuovi armamenti, 8,7 miliardi complessivi, record storico. Anche per il bilancio previsionale dello Stato per il 2022 continua la robusta crescita del budget per il Ministero della Difesa e della spesa militare complessiva. L'aumento per l'anno 2022 viene trainato dal bilancio proprio del Ministero della Difesa che sfiora complessivamente i 26 miliardi di euro.